Stefano Campolo, allenatore del Sora, un punto davvero molto prezioso che vi consente intanto di riprendere la marcia per l'obiettivo vostro è quello di uscire dalla zona che scotta. Venivate da una sconfitta interna, avete preso questo punto davvero che vi serviva come il pane? Assolutamente sì, è stata una partita complicata, dura come sapevamo, è stata una partita particolare perché si poteva vincere, perdere e pareggiare. Siamo stati un po' polli sul gol sul calcio d'angolo, è una situazione che avevamo anche preparato però c'è da migliorare ovviamente anche se va ribadito che il Chiedi se non erro è l'undicesimo gol che fa sul calcio d'angolo per cui c'è una qualità balistica nel calciare, c'è una qualità nell'impattare la palla. Dopo il gol siamo stati magari un dieci minuti in attimo un po' in difficoltà, abbiamo gestito diciamo abbastanza bene il campo senza essere tanto offensivi, dopodiché siamo andati increscendo piano piano. In effetti nella ripresa siamo stati dieci minuti, a parte il pareggio di Gubellini avete anche rischiato tra virgolette di segnare di nuovo. Esatto, abbiamo avuto un quarto d'ora di dominio assoluto della gara, dopo il gol voi i cambi che ha fatto il Chiedi, giocatori importanti e quant'altro, forse abbiamo rinunciato un po' a giocare, quello fa parte anche un po' della classifica, dell'emozione, del voler portare a casa la posta che non era il massimo ma che comunque è sempre un bel punto. Lì forse c'è da migliorare, anche in virtù comunque è fatto stare di una sconfitta bruciante domenica scorsa al 95esimo, immeritata, per cui bene ragazzi come immaginavo è un gruppo di persone fantastiche che dà l'anima, si è visto anche oggi, che non molla nulla, siamo un gruppo di bambini da virgolette che sta crescendo quotidianamente. Una delle formazioni più giovani credo. Siamo la più giovane del girone e tra le più giovani d'Italia, ma questo a me fa piacere perché come ho sempre ribadito in altre sedi, credo che la gioventù è una virtù, per cui c'è da lavorare, ovviamente forse ci manca quel pizzico di esperienza nella gestione della gara, però bravi ragazzi, infatti oggi è stato poi importante il portiere Dino Crispino che nelle parti finali ha trovato il risultato essendo forse l'unico giocatore esperto, ecco qui il calcio è questo poi. Ecco noi non abbiamo visto bene su quella doppia occasione di falla in cui è stato molto bravo il portiere Crispino, poi c'è stato un salvataggio sulla linea, di chi? Non lo so perché io comunque stando in panchina avevo una visuale molto intasata, per cui fatto sta con l'immagine andrò a riguardare attentamente la cosa, però quando si parava sempre bene, non mi interessa. Certo, un'ultima cosa, prima lei parlava del 95esimo sconfitto a Beffa la settimana scorsa e proprio nei minuti di finali Forgione ha avuto il gol del 2-1 che avrebbe consegnato tre punti al Chieti, anche lì è stato bravo Crispino a coprire proprio la porta. Ha detto bene, ma il calcio è questo, io credo nell'arco di una stagione, credo, spero più che altro che qualche episodio si possa compensare, è chiaro, forse abbiamo avuto la palla per poterla vincere, ma come ho detto in precedenza forse la potremmo anche perdere. Il calcio è questo, il punto è da portare a casa, si analizza la prestazione come abbiamo sempre fatto, con una situazione che noi avremo adesso la bellezza di sette gare casalinghe e cinque fuori, per cui il nostro obiettivo è andare fuori dalla zona rossa e giocandoci tutti in casa le partite più complicate, per cui abbiamo tutti scontiretti casalinghi che non possiamo assolutamente floppare, questo è quanto.